Ormai tutte le decisioni che vengono prese a livello industriale vengono prese attraverso tutta una serie di indicatori e noi ragioniamo con le dashboard e quindi nelle dashboard abbiamo degli indicatori che quando andiamo a guardare sono gialli, rossi o verdi ci danno degli indirizzi importanti e quindi io dico sempre che un manager può gestire solo quello che può misurare e quindi ecco perché è importante avere i dati, non a caso noi anche qui in un'industria utilizziamo molto i dati che sono già messi a disposizione e quando non li troviamo andiamo a fare delle ricerche ad hoc Assolutamente sì, sono i capisaldi di tutta l'industria, sono i capisaldi di un'industria in particolare ma ancora di più dell'industria farmaceutica, l'innovazione che viene dall'industria farmaceutica è straordinaria abbiamo visto che cosa vuol dire quando questa innovazione non è che tarda ad arrivare o non c'è non c'è perché si è presentato un qualche cosa di nuovo che non era conosciuto prima però abbiamo visto come l'abbiamo pagato, è stata una rincorsa e in poco tempo l'innovazione ci ha concesso oggi di essere qui e parlare tranquillamente di persone invece che magari rimanere chiusi nelle nostre case Grazie a tutti